Come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. La primavera di Guidi ha vinto 0-4 a Udine contro l'Udinese, da segnalare la doppietta di Maximilian Ibrahimovic, figlio d'arte. Uno dei motivi per cui, insomma, si è interrotta anche l'avventura di Abate, che era designato a guidare l'Under 23, però poi, insomma, ci è stata questa afflizione legata al poco impiego riservato al figlio di Zlatan da parte, appunto, di Abate, contestata questa cosa da Zlatan Ibrahimovic. Parte con una doppietta, chissà, vedremo molto incuriosito da questo percorso. Ma nel frattempo, attenzione, conferme sull'interessamento del Milan non calato nel tempo per Manu Kone, 23enne centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach. In uscita, il Borussia ne vuole 20 più bonus, il Milan, secondo la build, è arrivato a 16, ecco, offerta che raccontano i colleghi tedeschi. Vi posso confermare che il Milan, però, sta cercando di regalare un'altra occasione al mercato rosso-nero e soprattutto un'altra pedina a Paolo Fonseca. Se uscirà, come sembra, da lì lo stesso Pobega, quindi andare anche, a livello numerico, a costituire di nuovo un reparto più assortito, oltre, ovviamente, l'uscita di Calulu, centrocampista che piaceva al Milan già un paio d'anni fa, capitano dell'Under 23 francese che è arrivata a seconda. In finale olimpica, un gol della Spagna last minute ha portato alla sconfitta dei francesi. Vediamo che cosa succede. Ci avviciniamo intanto alla gara di stasera, ripetiamo, con Fofanà che sarà in tribuna, così come Royal, con qualche problema a livello burocratico, ma che si risolverà. Ditemi che ne pensate del figlio di Ibrahimovic. Io non ho ricevuto relazioni entusiasmanti, poi magari ci smentisce, vedremo. Oggi intanto doppietta, sicuramente importante. E poi su mano con me che idea vi siete fatti e se ci credete e se ci sperate oppure no. Commentate e lasciate un like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Ancora buon campionato, ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti. Ciao a tutti!